Eccolo l'Apollo in banchina, sta sbarcando la statua della Madonnina del Soccorso preceduta dalla banda musicale, li vediamo lungo il molo. Ed ecco anche i colori alla Piotola Duclèze, questo rosso a framonto in cui il tuffo diventa rosso, i mattoncini delle terrazze dell'Hotel Vittoria si accentuano in questa tonalità di colore straordinaria. Ecco sulla banchina che la banda di musica in bianco con la statua che si intravede. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.